Allora, Padova, ma dove stiamo in vera di sincerità? Mi ha detto che non le piace un quattacento, non le piace il reggito di cittadinanza. La Raggi, lei cosa pensa? Tu dovrebbe dimettere o dovrebbe fare meglio? Io dico solo una cosa, io sono un cittadino di Roma e sono molto triste. Punto. Come darle torto, Padova. Puglielini, tu che giri il motorino, come sei? Triste o allegro? Ma che sono triste? Sono pieno di cerotti alla fine. Sono davanti così, sarà la quarta volta che cado. Grazie.